Godio, barbara, della mia disperazione! Trionfa della mia buona fede! Direi di un misero che per te è more! Ma trema della giustizia del cielo! Ti lascio in prea del tuo rossone! Parli non per me i tuoi rimorsi! E per ultimo dono di chi tu sprezzi! Assicurati di non vederli mai più! Oimè, che è stato? Eugenia! Mario! E' un cozzo! Questa è una scena degli innamorati di Carlo Goldoni con tre innamorate e tre innamorati che vi consigliamo di venire a vedere al Teatro Ghione dal 24 settembre!